Ancora ben trovati dalla redazione di Firazzo Smart in studio Agnese Fideli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, è prevista neve in Appennino, ricordiamo di moderare la velocità, di guidare con prudenza e l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della regione. La mobilità in A1, rallentamenti per traffico intenso verso Bologna, tra Calenzano e Barberino. Regolare il traffico altrove. Per traffico ferroviario, per un guasto alla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronta, dovuto al maltempo, segnaliamo che il treno 18-887 Firenze-Faenza è cancellato da Brisighella a Faenza. Stesso tratto cancellato anche sul treno corrispondente 18-896 Faenza-Firenze. Tutori dettagli sui nostri canali social. Dobbiamo salutarci sempre per maltempo, quest'oggi è cancellato il traghetto Piombino-Cavo-Porto-Ferraio delle 12.20. Muoversi di Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!